È stato importante questo di Carrara, come inizia la sua amministrazione? Mi fa richiamare, non ho ritorno. L'amministrazione comincia dalle rovine che ci lasciano le precedenti amministrazioni. Abbiamo due mandati del precedente sindaco a guida PSI-PD e in questi due mandati la situazione della città e del comune è stata sempre più disastrosa. Abbiamo subito negli ultimi quattro anni tre alluvioni, teatri chiusi, scuole chiuse, parchi pubblici chiusi, abbiamo tutta una serie di situazioni che la gente, il cittadino non può accettare e quindi dal nostro punto di vista c'è stato un forte voto anche proprio di protesta contro questa gestione amministrativa. Allora, sindaco Elisa Calessi da studio, 30 secondi Elisa. La giunta, le scelte che dovrà fare, le concorderà con Beppe Grillo, col direttore del Movimento 5 Stelle o saranno scelte i suoi autonome? Due minuti. Grazie. 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 Grazie.